Il meteo, piogge temporali al centro-sud, oggi allerta gialla nelle paese per nove regioni. Mezza Italia si è risvegliata sotto la pioggia in questa domenica, la prima di settembre caratterizzata dall'allerta meteo in gran parte del centro-sud. La protezione civile ha assegnato livello giallo a nove regioni, Toscana Meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria Tirrenica. Non dovrebbero esserci i temporali al nord, dove la scorsa notte le ampie schiarite hanno favorito la prima nebbia della stagione. Lentamente le temperature torneranno a risalire leggermente fino a raggiungere e superare domani, in alcune zone, anche i 25 gradi. Non si boccheggerà, insomma, come potrebbe accadere un po' più a sud. A Palermo, la giornata di oggi è caratterizzata dal bollino giallo per il caldo. La grande perturbazione che minaccia il centro e il sud, ieri, adduramente, è colpito la Toscana e la Liguria. Forti temporali, raffiche di vento su Firenze, Prato, nel Pistoiese, Pisa e Lucca. Tantissimi disagi a Capalbio sul litorale. Il traffico ferroviario sulla linea Grosseto-Roma è stata sospesa a causa degli effetti del maltempo sulle infrastrutture elettriche e sugli impianti di gestione della circolazione della tratta Orbetello-Montalto di Castro.